Dal 23 aprile all'11 settembre una mostra racconta come sono cambiati gli stili di vita attraverso la ceramica dal 1600 ad oggi. Stile di vita europeo attraverso la ceramica dal barocco ai giorni nostri è la mostra itinerante allestita al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Un allestimento decisamente particolare che nasce da quale tipo di progetto? Come nasce? Un progetto europeo molto qualificato e molto importante che coinvolge 11 paesi e 25 partner. È stato approvato nel 2014 ma è nato ben prima, se ne parlava già nel 2010 e tutta l'attività preparatoria di questo progetto è durata due anni. Quindi è stato un lungo iter per arrivare a un risultato straordinario di cui la mostra è solo un elemento di questo progetto. Infatti la mostra è itinerante e andrà in nove paesi e rappresenta oltre 12 realtà e comunità e civiltà ceramiche. Quindi è stato veramente un percorso bello per raccontare una storia. Dicevo, è solo un momento di questo progetto che coinvolge anche istituti diversi, non solo musei, quindi università, istituti del design, centri culturali, centri di ricerca per portare una sorta di casa della ceramica. Noi parliamo sempre di House of Ceramics che è composta di elementi vari. Grazie a tutti.